Siamo vicini alle 18, ci sono ancora questi ragazzetti che smartellano di continuo con questo concertino, gradevole ma si divertono proprio con i martellini, con queste campanelle davanti alla facciata della cattedrale, però adesso speriamo abbiano un occhio di riguardo alle 18, queste splendide campane del Duomo di Crema suoneranno, faranno la suonata solenne. Come più volte ripetuto, già ho fatto due riprese in cella campanaria, ieri alle 15 e oggi a mezzogiorno, prima ho registrato alle 5 una allegrezza e adesso, eccolo qua, manca un minuto circa, aspettiamo la suonata solenne per le grandi festività, oggi è l'ultimo giorno di queste due giorni campanaria ma è anche la domenica dell'ascensione, oggi è 29 maggio 2022. dalla cattedrale di Crema, adesso aspettiamo il suono delle 18, la suonata solenne delle ore 18. va bene, grazie. Ci siamo, sono le 18. 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 Ci siamo, 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 le 18.